Dal 2015, Carolyn Smith combatte contro il tumore al seno. L'insegnante di ballo e presidente della giuria di Ballando con le stelle, si sottopone regolarmente a trattamenti chemioterapici. Recentemente, ha condiviso una foto dall'ospedale su Instagram, scherzosamente chiamando la sua giornata di cure, Spa Day. Carolyn mantiene un atteggiamento positivo, cercando di sorridere nonostante la malattia. Carolyn Smith risponde alle voci sul ricovero ospedaliero. Per smentire le voci di un presunto ricovero in ospedale, Carolyn ha pubblicato un video dal giardino di casa sua, chiarendo la sua situazione di salute. Nel video, ha dichiarato, io sono a casa. Ieri ho fatto lo Spa Day, che fa parte del mio percorso oncologico, e sto bene. Ok? Continuo a sorridere. Anche se non è facile e vorrei una pausa. Ma non posso. Sto bene, ho fatto questo video perché ho visto un altro articolo su Instagram online che faceva allarmismo, dicendo che sono ricoverata in ospedale. Io dico sempre la verità. Devo fare le cure ogni tre settimane. Basta, finché sono in vita, continuerò ogni tre settimane. A meno che non accada un miracolo. Se qualcosa dovesse andare davvero male, sarò io a dirvelo. Di solito entro in ospedale presto la mattina, intorno alle 7.30, ed esco nel primo pomeriggio. Questo è il mio stile di vita e continuerò finché il mio team di medici lo riterrà necessario.